Nome? Ilaria. Cognome? Ferrara. Descriviti. Penso di essere persona simpatica, anche molto determinata. Chi porteresti con te per fare shopping? Mia mamma, perché solo con lei riesco a comprare. Cosa compreresti con 100 euro? Delle scarpe col tacco e poi comprerei un paio di jeans. Votatemi! Saluto tutti gli amici dell'EcTV.